Siamo sotto i contrafforti o gli archi rampanti della basilica di Santa Chiara. Contrafforti poligonali. Tutto fantastico, Cecco, no? Guarda che bellezza, Cecco. Santa Chiara, la basilica di Santa Chiara. No. Che c'è, Cecco? Gino. No. Che è? Gino. No. 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 No lei spiegherà la bassinica io spero la bassinica di San Francesco io te anche io anche Cecco cosa ne pensi del viaggio? il Cecco è fantastico buongiorno siamo qui ad Assisi al centro Italia diciamo no? cosa vedremo oggi? buongiorno e adesso stiamo andando a vedere la Porziuncola dopodichè ci richeremo a San Damiano dove è cominciato è cominciato e poi ci richeremo di seguito nella città di Assisi che è meravigliosa buongiorno fantastico andiamo ci stiamo recando a vedere la Porziuncola questo è il piazzale la nebbia ci impedisce di vedere bene i particolari ma noi andiamo avanti comunque perché questo viaggio deve portarci alla scoperta di misteri del gotico italiano della cultura di questa la Cappella del Roseto e da altri locali santri per le memorie del santo e dei suoi primi compagni con lo spavate con tranzietto non scorgente ma comunque è una chiesa diciamo che ha dei stessi da la rocca quello che ci interessa è un po' un po' un po' un po' E' l'unico frutto dell'amore. 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 Quanto è alto? E' l'unico frutto dell'amore. E' l'unico frutto dell'amore. E' l'unico frutto dell'amore. è stata edificata aspetta che non c'è nessuno che accorrete forza venite forza ciccerone vendiamo dalle vostre labbra come potete notare alla vostra qui c'è la basilica di San Francesco grazie non lo sapevamo in cui ci sono le spoglie di San Francesco e ci sono le spoglie di San Francesco e ci sono due basiliche una inferiore e una superiore questa è la superiore questa è la superiore gotica la inferiore è romanica è romanica come potete vedere il frontone il rosone il rosone che sarebbe la rossa gigante con i simboli con i simboli dai c'è pure pure più i patro evangelisti i patro evangelisti è stato giocato il portale strombato francesco aveva proprio chiesto di essere dopo la sua morte portato qui questo la basilica sorge sul colle chiamato inferno dove venivano appunto ammazzati era un posto molto diciamo in ospitale e come potete vedere Bartolini come potete vedere Bartolini ma le in tasca Bartolini dai per un problema diciamo dei pellegrini dei molti pellegrini che arrivavano in questo punto per pregare i suoi successori hanno deciso di ampliare la basilica per diciamo anche sfruttare tutto il problema di persone no? sfruttare tutto un problema di persone non commento va bene dai Bartolini fa con il cellulare dai fa Bartolini con il cellulare sono molto esori questa è una chiesa la porta la vuole in tasca c'è una porta è una palla c'è una porta c'è Stambu ma ancora ne finia penso dai fai la veraggine la veraggine l'ho vista la chiesa ok? fate una pecherina che va bene Nico vuole bene a Nico la matematica è importante come fa a tirarla su una chiesa con una chiesa vuole bene Nico vuole bene a Nico volete bene a voi stessi pregati e la chiesa è fatta bianca perché la chiesa guarda il cielo di che colore è il cielo? e la chiesa e la chiesa di che colore è? e qual'è bianca? non si vede tonale e locale non si vede quando tu le metti non si capisce perché colore tonale è colore locale è solo marrone che spicca fa contrasto sembra sardo è una cosa seria questa è una cosa seria sshh distrusciate se lo senti? no siamo stati nella basilica superiore adesso stiamo andando in quella inferiore di stile romanico e si è molto bella ma no 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 mamma mia che bello pare quelle robe medievali siamo usciti adesso dalla basilica inferiore e ora ci apprestiamo a tornare nell'autobus per arrivare a Fabriano dove vedremo una mostra Cecco cosa ne pensi di Assisi? com'è stata questa esperienza è stata oh c'è la sasera io vengo oh no 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 Che cazzo?